bene e continuiamo la nostra esercitazione e abbiamo adesso completato diciamo così una unità abitativa adesso dovremmo duplicare questa unità abitativa anzi per la precisione triplicare questa unità abitativa perché vi ricordo l'intero edificio è composto di sei unità di cui tre su un piano e tre sfalsate di un metro in altezza su un altro piano adesso facciamo un ulteriore passo duplicando la nostra singola unità con altre due quindi triplicando la nostra unità una volta fatto questo poi successivamente raddoppieremo queste tre unità sfalsandole di un metro allora prima di procedere alla duplicazione di questa di questa unità abitativa dobbiamo è bene fare una verifica per controllare che tutto sia stato fatto il più preciso possibile perché poi chiaramente qualsiasi modifica andremo a fare invece che su una unità la dovremmo fare su tutte e tre poi successivamente su tutte e sei per cui conviene prima di procedere alla duplicazione di verificare che tutto sia stato fatto bene questa verifica va fatta un pochino in tutte le viste sia nelle piante che nel 3d ma soprattutto anche nella sezione eccola qua in particolare qui nella sezione vediamo che c'è diciamo così un piccolo problema sull'intersezione tra il tetto e la muratura se voi vi ricordate questa falda di tetto l'avevamo fatta partire dal punto esterno poi dopo però in realtà questa muratura diciamo è rialzata per cui il tetto fondamentalmente parte dal punto interno per cui questa intersezione appare esattamente per questo motivo quindi conviene andare a fare questa modifica per cui per fare questa modifica conviene andare sul piano primo selezionare il tetto il tetto eccolo qua e andare a modificare questa linea con la pet palette il comando offset in questo punto conviene fare dobbiamo fare la stessa cosa anche per la falda sotto adesso se la falda sotto abbiamo problemi a selezionarla ci sono vari modi un modo potrebbe essere quello di andare a praticamente nascondere per esempio il layer dei solai noi sappiamo che in archicad come in tutti i programmi di cad o di bim i vari elementi vengono rappresentati in vari lucidi o layer allora noi qui abbiamo un lucido per i solai adesso siccome il tetto e il solaio la falda e il solaio sono praticamente sovrapposti ci potrebbe essere difficoltà a selezionarne esistono vari modi però un modo che potremmo imparare a modificare adesso è quello di selezionare il solaio tasto destro lucidi nascondi lucido vedete in questo modo il solaio diciamo così è sparito non c'è più per cui adesso che cosa possiamo fare possiamo selezionare tranquillamente questo e questa falda andare sul bordo inferiore e fare l'offset sulla linea interna poi visualizziamo tutti quanti i layer quindi andiamo sul design sul documento lucidi possiamo tranquillamente mostrare tutti i lucidi perché non c'era niente di particolare adesso se andiamo sulla sezione la facciamo ricalcolare e l'intersezione vedete adesso avviene in modo corretto sia da una parte che dall'altra ma diciamo che in generale abbiamo un pochino verificato tutto che tutto è diciamo così rappresentato correttamente allora ci posizioniamo sul piano terra in questo caso e incominciamo a vedere come duplicare le nostre unità abitative allora e cosa è importante allora è chiaro che nel duplicarle ci sarà qualche elemento che verrà rappresentato due volte verrà sovrapposto per esempio chiaro che si vada a duplicare questa casa per tre volte per due volte quindi per un totale di tre unità verso destra sicuramente questo muro e questo pilastro si andrà a sovrapporre questo all'altro per cui dovremo poi dopo fare necessariamente degli aggiustamenti ugualmente anche il marker della sezione chiaramente verrà duplicato allora per evitare di creare tanti marker anche inutili possiamo tranquillamente cancellarlo in realtà vedete qui ce n'era già più di uno sopra l'altro e in modo ecco che poi dopo li rimetteremo dopo tanto le sezioni vengono calcolate in modo automatico da archi allora la prima cosa che dobbiamo fare è selezionare questo questa unità per poterla poi raddoppiare allora lo strumento area di selezione dobbiamo andare a selezionare la prima opzione quello di selezionare tutti i piani perché se utilizzassimo la sezione la selezione semplice questa è chiaro che andremo a copiare soltanto un piano però noi il nostro edificio è fatto dei tre piani quindi dobbiamo praticamente selezionare tutti quanti elementi a questo punto come abbiamo detto andiamo a selezionare tutti quanti i piani e ci prepariamo per effettuare le copie allora per effettuare le copie dobbiamo prendere il comando edita muovi allora nel comando muovi come sappiamo abbiamo tre possibilità o di muovere un singolo elemento o di muovere una copia o di muoverne più copie nel nostro caso dobbiamo usare questo muovi multiple copie dobbiamo scegliere un punto base allora conviene scegliere questo punto del pilastro e andare poi a duplicarlo in questo punto e successivamente ancora in quest'altro allora in questo modo alcuni elementi chiaramente sono stati duplicati adesso dobbiamo andare a lavorare e adesso se lo andiamo a vedere in 3d sembra che abbiamo fatto bene tutto però in realtà già da qui si può vedere che ci sono alcuni elementi che sono sovrapposti per esempio vedete questo muro e questo sono parzialmente sovrapposti lo stesso questo sotto lo stesso i solai ecco anche i pilastri e i muretti vari sono tutti quanti diciamo qui c'è una sovrapposizione parziale questi sono tutti elementi duplicati allora conviene partire piano per piano e sistemare tutte queste interferenze allora partiamo dal piano interrato incominciamo che ne sono questi solai vedete questo solaio e questo e quest'altro sono sovrapposti allora andiamo sul primo sul solaio centrale clicchiamo sul bordo appare la pet palette prendiamo l'opzione offset di un lato e lo mettiamo da questa parte la stessa cosa di qua e questo l'abbiamo sistemato e già in 3d potremo vedere l'effetto perché qui ecco spariranno allora è il piano interrato che non lo vediamo questo lo vedremo nel piano terra e ritorniamo al nostro piano interrato e facciamo questa operazione anche con i muri allora questo muro e questo sono sovrapposti allora prendiamo questo muro bordo lo allunghiamo prendendo il punto interno stessa cosa di qua lo prendiamo e andiamo a allungarlo sul muro interno ecco andiamo nel 3d questa volta questo lo vediamo già fatto prima i solai noi abbiamo aggiustato i salari del piano interrato non del piano sopra per cui chiaramente non lo vediamo ritorniamo al nostro piano interrato e vediamo quali altri elementi dobbiamo rimettere a posto c'è questo muro centrale che sicuramente è doppio lo cancelliamo cancelliamo anche l'altro allora se ci viene un dubbio se un muro è doppio non è doppio basta cancellarlo adesso se io questo lo vado a cancellare non ho più muri per cui significa che era l'ultimo basta annullare ritorniamo nella situazione iniziale vediamo qui che cosa è successo su questa intersezione di muri possiamo tranquillamente allungarla eccolo qua e il muro adesso è intersecato correttamente andiamo a vedere sopra che succede sicuramente anche qui avremo i muri raddoppiati quindi andiamo a cancellarlo e andiamo a cancellarlo qui ecco è successo qualcosa di particolare ecco c'è la sovrapposizione qui anche di questi altri muri per cui anche qui prendiamo questo spigolo e lo andiamo a portare qui vedete adesso l'intersezione è pulita facciamo la stessa cosa da quest'altra parte e riusciamo anche in questo caso a completare ecco mi sembra che in questo piano non ci siano altre cose da modificare andiamo al piano superiore piano terra e facciamo le stesse operazioni eccolo qua qui abbiamo stesso rischio vi ricordo che il solaio qui non è un solaio unico lo avevamo diviso in tre parti per dargli delle finiture differenti tra interno ed esterno per cui adesso dovremo andare allungare i solai tre volte allora prendiamo questo laterale questo centrale lo portiamo qui da questo lato lo portiamo da qua adesso sicuramente se andiamo in 3d spariranno queste due queste linee doppie perché lo abbiamo sistemato rimaniamo nella parte bassa i pilastri sono sicuramente duplicati li andiamo a cancellare ok stessa operazione per questi muri o l'orecchia è ovvio non è ovvio quando noi abbiamo disegnato i muri concatenati tra di loro per poter cancellare il singolo muro dobbiamo eliminare il raggruppamento per cui selezioniamo tutte le murature selezioniamo la muratura con un unico click andiamo su edita raggruppamento separa magari stessa operazione facciamola per tutti edita raggruppamento separa anche se alla fine non era nemmeno necessario edita raggruppamento separa questo punto prendiamo il muro centrale che lo cancelliamo quest'altro muro e lo cancelliamo bene qui c'è ricomparsa la linea proprio perché anche in questo caso abbiamo una sovrapposizione allora andiamo qui e allunghiamo questo muro da quest'altra parte vedete sparisce andiamo ugualmente qui prendiamo questo muro e lo allunghiamo da quest'altra parte e anche qui la sovrapposizione è corretta andiamo a vedere che cosa succede dietro ai solai non abbiamo fatto anche in questo caso apriamo questo solaio centrale prendiamo il bordo e lo allunghiamo di qua prendiamo il bordo e lo allunghiamo all'altra parte in modo che solaio e solaio non si sovrappongono stessa cosa la dobbiamo fare fuori quindi questo lo portiamo qui questo lo portiamo qui i muri li abbiamo intersecati in questo caso no interseghiamo spostiamo anche questo muro e spostiamo anche ecco il muro in quest'altra situazione mi sembra che abbiamo fatto tutto tranne questa griglia vedete la griglia che è la reazione illuminazione delle bocche di lupo quindi per il piano interrato se vi ricordate quando l'abbiamo disegnata l'avevamo fatta più corta di 30 centimetri però per evitare la sovrapposizione tra una griglia e l'altra e abbiamo fatto bene adesso l'unico problema è che l'ultima griglia sarà di 30 centimetri più corta allora se noi andiamo a misurare con l'apposito strumento la lunghezza che è 5,90 e andiamo a selezionare questa griglia questa griglia sarà sicuramente eccolo qua 5,60 per cui la allunghiamo di 30 centimetri e riusciamo a coprire tutto quanto l'ingompro allora è chiaro in realtà non siamo stati precisissimi perché con questa operazione di fatto diciamo così il singolo buco dell'ultima griglia un pochino più grande di quello della griglia precedente però adesso in prima approssimazione possiamo anche lasciare questa questa situazione il piano terra mi sembra che l'abbiamo sistemato andiamo adesso al piano primo allora il piano primo anche qui abbiamo una serie di operazioni da fare allora incominciamo con i solai anche in questo caso ne abbiamo tre occhio ecco qui abbiamo anche il problema dei muretti che avevamo fatti più sottili per cui occhio quando andiamo a fare l'offset a prendere le linee giuste da questa parte e da quest'altra bene stessa cosa la dobbiamo fare per i solai interni vedete sono su parzialmente sovrapposti quindi offset da questo lato a questo lato da questo lato a quest'altro lato anche qui abbiamo i muretti esterni sovrapposti lo cancelliamo e lo cancelliamo vediamo poi che cosa dobbiamo fare qui al lato anzi facciamolo subito qui al lato vedete avevamo siccome i muretti erano diciamo così più sottili rispetto qui non so che è successo ah no va bene i muri erano più sottili rispetto alla muratura centrale l'avevamo centrato sul muro è chiaro che questo va bene nella situazione intermedia ma non nella situazione finale qui dobbiamo quindi prendere questo muro e con l'apposita palette spostarlo all'esterno e aggiustare anche la relativa intersezione eccolo qua la stessa cosa andiamo a fare dall'altra parte prendiamo questo muro lo spostiamo prendiamo quest'altro e lo allunghiamo qui bene quindi la parte muretto sulla esterno l'abbiamo aggiustato andiamo a vedere in 3d eccolo qua vedete qui praticamente l'intersezione adesso è corretta e ritorniamo nel nostro piano primo e facciamo le altre operazioni allora le altre operazioni sono muro centrale anche in questo caso è doppio e lo andiamo a togliere ok i solai l'avevamo già aggiustati bene e vediamo le murature allora questa muratura e questa si sovrappongono per cui prendiamo la prima muratura e la aggiustiamo in questo punto stessa cosa da quest'altra parte qui abbiamo già il punto di riferimento e l'abbiamo aggiustato abbiamo detto che i solai l'avevamo messi bene quindi non c'è nessun problema andiamo adesso nella parte superiore ora qui abbiamo una serie di problematiche allora una tra parentesi anche la ringhiera e se voi vi ricordate la ringhiera l'avevamo disegnata separata ogni unità aveva la sua ringhiera adesso che succede però che questa ringhiera nella realtà sarà una ringhiera continua e questo tipo di intersezione diciamo così non va bene allora che cosa conviene fare penso che l'operazione più rapida sia quello di andare a cancellare questa ringhiera e ridisegnarla tanto estremamente veloce l'operazione come una ringhiera unica per cui prendiamo questa ringhiera la cancelliamo la stessa cosa da questa parte la stessa cosa dall'altra poi dopo la ridisegneremo alla fine adesso andiamo a fare le solite operazioni questo muro e questo muro sono sovrapposti per cui prendiamo questo punto e lo portiamo qui eccolo qua in questo caso non era necessario intersezione va bene stessa cosa da quest'altra parte questo punto lo portiamo qui ok i muretti non mi ricordo se l'avevamo già cancellati lo facciamo non lo avevamo cancellati e li cancelliamo muretto laterale stessa operazione allora dobbiamo spostare qui in questo caso le intersezioni vanno tutte bene ultimo muro lo spostiamo da qui a qui bene ecco l'unica l'operazione che rimane da fare quella dell'intersezione di questi due solai ma in questo caso conviene modificarli tutte e due in modo da poter farli intersegare nel punto esatto perché questi non essendo solai perfettamente rettangolari hanno questo tipo di problema per cui prendiamo il nostro lato eccolo qua e facciamo l'offset sulla intersezione ugualmente nell'altro offset sull'intersezione in modo che almeno ecco siamo stati precisi stessa cosa da questa parte offset sull'intersezione stessa cosa da quest'altra parte offset sull'intersezione e questo va bene a questo punto possiamo mi sembra che abbiamo fatto più o meno tutto possiamo disegnare un'altra volta la nostra ringhiera per cui prendiamo il nostro parapetto e adesso l'abbiamo lasciato con le opzioni standard lo andiamo a ridisegnare magari ingrandiamo se abbiamo qualche problema lo ridisegniamo in modo continuo in modo che almeno non abbiamo più il problema della sovrapposizione delle singole ringhiere ecco qua ok voglio controllare un attimo è successo qui perché abbiamo un muro doppio ecco questo lo cancelliamo e abbiamo disegnato bene il nostro muro e mi sembra che abbiamo fatto bene tutto vediamo sì è vero sì anche i tetti sono sovrapposti sicuramente qui non si vede per via delle tecole vedete come si è ripulito un pochino tutto quanto il disegno vediamo il retro ecco le ringhiere adesso come vedete sono continue la griglia del piano interrato è fatta bene e abbiamo anche la sovrapposizione dei tetti allora per poterlo risolvere questo problema possiamo andare qui nel piano primo abbiamo il solito problema di prima possiamo tranquillamente nascondere il lucido dei dei solai in modo da poter lavorare meglio sui tetti per cui prendiamo misuriamo prendiamo il primo tetto offset da questa parte tetto qui sono falde separate quindi questa operazione la dobbiamo fare più volte tetto e no prendiamo quest'altro offset su questo bordo prendiamo il tetto sopra offset su quest'altro bordo rimettiamo documento lucidi mostra tutti lucidi ecco qua adesso saltiamo in 3d non noteremo nulla di nuovo anche se qualcosa si è mosso però i detti adesso sono dei detti continui diciamo che in questo modo non mi sembra che ci sono altre cose da modificare che abbiamo saltato qualcosa chiaramente le modifiche le possiamo fare in qualsiasi momento però considerando che questo blocco di 3 case adesso lo dovremo duplicare sfalzato di un metro lo faremo questa prossima lezione è bene che tutto quello che possiamo controllare disegnare bene lo facciamo in modo che almeno poi non lo dobbiamo più modificare più volte e quindi diciamo che questa queste tre unità immobiliari sono pronte per essere duplicate l'unica l'ultima cosa che vi volevo far vedere è che se vi ricordate noi abbiamo prima cancellato il marker della sezione proprio per evitare di duplicarli inutilmente però abbiamo tutta una serie di marker già preimpostati no noi abbiamo utilizzato i marker del file template base di archicad è chiaro che questi marker poi li dovremo andare a modificare perché quando andremo a duplicare queste tre case non saranno più posizionati bene bene anche adesso questo marker sopra vedete finisce troppo troppo presto diciamo così per cui basta selezionare un lato prendere l'opzione per allungarlo e fare in modo che questo marker rappresenti tutto vedete anche questo qui al piano sotto c'è lo stesso problema questo è il marker di sinistra il marker di test adesso posso anche un pochino aggiustare poi dopo alla fine quando tutto l'edificio sarà completo li metteremo bene ugualmente adesso possiamo rifare la nostra sezione prendiamo la sezione e la facciamo da qui a qui e la facciamo guardare da questa parte questa è la sezione 6 l'andiamo a vedere sviluppata un attimo che il computer la calcola il programma la calcola vediamo se questa sezione è stata fatta in modo corretto ecco mi sembra di vedere che non ci sono problemi particolari in tre sezioni avevamo già diciamo così aggiustate prima e mi sembra che insomma tutto quanto sia in modo abbastanza preciso poi le modifiche chiaramente le potremo fare in qualsiasi momento bene quindi alla prossima lezione vedremo come duplicare ulteriormente queste tre case sfalsate di un metro un metro